Grazie a lui ho perso 8 chili. Ciao e bentornati dal vostro Loretech. Può la tecnologia aiutarci a dimagrire? La risposta è sì. Scopriamolo insieme dopo la sigla. Qualche mese fa avete visto lui, Mi Band 8, il nuovo smartwatch di casa Show Me che ho associato a questo accessorio molto molto interessante che mi ha permesso di perdere chili in poco tempo. Ve lo mostro meglio nel dettaglio. Questa è la sua confezione. È un accessorio che ci permette di poter agganciare il nostro Mi Band a uno zaino o alle scarpe quando facciamo una corsa o facciamo trekking. Questo piccolo accessorio ci permette di rimuoverlo. Vi faccio vedere come funziona. Andate ad alloggiare il vostro Mi Band e il gioco è fatto. Premendo questo bottoncino si apre questa clip che poi andremo a chiudere una volta agganciato. Quando dobbiamo mettere in ricarica il nostro Mi Band non ci basta far altro che fare leva in questo modo e il bracciale verrà fuori. Beh, molti di voi ci stanno chiedendo come sei arrivato a questo risultato? Grazie a un altro accessorio di casa Xiaomi. Ve la mostro. La bilancia di Xiaomi. La scritta attiva Windows non vi fa dormire la notte? Ma niente paura. Vi viene in aiuto il vostro Lorettec. Attraverso Kisfan potete acquistare chiavi di Windows 10, Windows 11 o pacchetti di Office a prezzi veramente scontati. Vi faccio vedere un po' di esempi. Office 2021 Professional. Una chiave a meno di 30€ a soli 27,75€ inserendo il mio codice sconto LORE62. Windows 10 Professional a 8,78€ Windows 11 Professional a 13,31€. Una volta scelta la vostra chiave aggiungete a carrello, inserite il mio codice sconto LORE50 e andiamo a inserire la nostra chiave. Clicchiamo su attiva, Windows è attivo. Semplice, pratico e veloce, tutto in pochi clic. La MyFitness che ci permette di poter sincronizzare il nostro peso attraverso la connessione Bluetooth all'applicazione e il nostro bracciale. Sicuramente anche la forza di volontà, una dieta e l'attività fisica associato all'alimentazione e al movimento. Attraverso l'applicazione possiamo tenere monitorato passo passo la nostra attività fisica che sia trekking, che sia corsa, che sia bicicletta. Avete visto nelle clip com'è facile poter portare con sé in tutte le attività il nostro Mi Band 8. Adesso però voglio sapere la vostra. Avete intenzione di perdere peso in modo smart? Beh, non vi resta fra l'altro che acquistare questo piccolo accessorio, magari associandolo alla bilancia che vi dà sicuramente una marcia in più. Che tipo di accessori utilizzate con il Mi Band 8? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. A questo punto non mi resta fra l'altro che salutarvi, dimagrire con Mi Band 8, l'Ortac era tutto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!